Abbiate sempre tanta cura della sanità pubblica e questo è il saluto che l'ormai ex direttrice generale ASD Pierpaola D'Alessandro ha voluto inviare agli operatori della stampa nel suo comunicato di commiato. Un rapporto di reciproca fiducia e collaborazione che ha permesso, come sottolineato dalla stessa D'Alessandro, di riuscire a trasmettere notizie ed aspetti fondamentali che l'azienda sanitaria nei momenti più duri della pandemia ha dovuto trasferire i cittadini. Un rapporto che è andato avanti fino all'ultimo giorno quando il suo addio alla guida dell'ASD a Ciociara era sì nell'aria ma non si pensava così imminente. In occasione del protocollo d'intesa fermato in prefettura in settimana, infatti, la dottoressa D'Alessandro ha voluto lanciare il suo ennesimo monito alla cautela per quel che riguarda la presenza del Covid. Il virus è presente e circolante ma questo al di là che il direttore generale lo dica è percezione di tutti i cittadini. Chiaramente siamo più liberi, ci siamo tolte la mascherina, come è evidente anche per me oggi, che non è solito, quindi questo continua a causare la reinfezione. I dati che noi abbiamo e comunque che con l'andare avanti della stagione calda diminuirà, questo non significa che noi abbiamo certezza della scomparsa perché il virus purtroppo muta velocemente e quindi tutte quelle che vediamo come varianti sono mutazioni di cui ogni giorno apprendiamo. Però la situazione ospedaliera, se vi devo dire il dato esatto, è che sono pazienti che hanno comorbilità, hanno anche altre malattie, altre malattie complesse legate anche all'età. Noi abbiamo un'età media molto alta di ricovero ospedaliero, quindi hanno anche Covid ma sono malati di anche tante altre cose. Quindi questo non ci deve liberare tutti ma farci capire la dimensione reale del fenomeno. Oggi invece il suo saluto agli organi di informazione con quella preghiera alla cura della sanità pubblica perché, riprendiamo le sue parole, è un bene prezioso, purtroppo molto fragile e perderla sarebbe disastroso per tutta l'umanità. Abbiatene cura.